Salve a tutti quanti, io sono Terrenas e benvenuti a questo nuovo video dedicato alle ranked, le competitive di Valorant finalmente arrivano, questa settimana in entrata 0.49 sarà la patch, non sappiamo quando la patch viene rilasciata, potrebbe essere martedì come potrebbe essere venerdì, ma hanno detto che poco dopo l'uscita della patch 0.49 le ranked saranno disponibili. Quindi molto emozionante perché finalmente vediamo le ranked in azione per una cosa in primis interessante, perché la Riot ha dichiarato che non utilizzerà un sistema standard, lo fanno notare, il nostro sistema punta a risolvere alcuni problemi comuni che abbiamo visto affliggere i giocatori in modalità competitive e nei sistemi classificati di altri titoli, che siano FPS o MOBA o qualsivoglia gioco che voi abbiate in mente, il sistema di ranked negli altri giochi, se è un gioco di squadra soprattutto, se tu giochi bene e gli altri giocano male potresti essere punito e perdere punti, leghe, cose, quello che volete chiamarlo, a prescindere dalla performance che tu hai personalmente. Su Valorant vogliono provare a fare qualcosa di diverso, con la tua performance personale comunque puoi andare un po' a deviare, a mitigare il danno di una sconfitta, ma questo succede anche negativo, se tu giochi malissimo ma comunque vai a vincere potresti non guadagnare effettivamente niente. Il sistema va a tenere conto di una enorme quantità di variabili che però hanno detto chiaro e tondo, non c'è modo di manipolare per ora il sistema perché dovreste conoscere tutte le variabili per saperlo effettivamente manipolare, uno, e due, non concentratevi sul Ah no, ma ho avuto un KDA troppo basso e adesso perdo punti, oppure ah ma se io piazzavo quello slow un secondo prima allora non avrebbe contato, no, non provate a ragionare attorno al sistema. Giocate del vostro meglio, fate del vostro meglio e poi magari insieme si possono dare dei feedback, capire insieme perché va bene e perché va no, ma finché il sistema non è app e non vediamo come funziona, cerchiamo di non entrare nel panico con oh mio dio ma allora il sistema... perché so già che ogni volta si parte con un panico a caso, se qualcosa è fuori dalla norma, lo so che qualcosa che non è normale, spesso voletieri viene trattato come negativo, spoiler, non è così, semplicemente è una novità, è qualcosa di nuovo che va provato. E sono curioso proprio per questo di provarlo, perché dicono chiaro e tondo che vogliono provare a proporre qualcosa di nuovo, vogliono sentire i nostri feedback costruttivi, perché se facciamo feedback distruttivi non servono a niente, non li aiutano, non ci... non andiamo da nessuna parte. E è fondamentale invece di provare ad aiutarli, perché questo è un FPS che sembra voler fare la differenza all'interno del genere degli FPS e fino ad ora a livello qualitativo ci sta già riuscendo. Però spero in qualcosa in più con questo sistema di rank, spero che faccia quel passo in avanti ulteriore che magari porta ad accendere un po' i neuroni a tutte le case di sviluppo di giochi, perché dicono cavolo se ci riescono loro, perché non ci riusciamo noi, qual è la differenza, qual è la nostra mancanza. Però andiamo... ho parlato tantissimo, ho detto un sacco di cose, ma andiamo alle basi. Come accedi alle competitive di Valorant? Devi completare 20 partite non classificate per sbloccare la modalità competitiva, quindi non puoi lanciarti a testa bassa subito all'interno delle... le ranked, ma devi avere almeno giocato 20 partite, almeno così che capisci come funziona il sistema, nella peggiore dell'ipotesi finisci poi in ferro e quindi not a big deal, ma almeno 20 partite devi averle giocate, devi capire che cosa sta succedendo sulla mappa, i personaggi, le armi, eccetera, eccetera, eccetera. Le ranked sono divise in 8 gradi, con 3 livelli ciascuno, tranne il livello massimo, che è il livello Valorant, che porca puttana, un po' di più creatività, magari... magari, eh... Il grado Valorant come massimo è abbastanza triste, potevano veramente inventarsi di tutti. Entrate in coda con gruppi fino a 5 giocatori entro 2 gradi dal vostro. Che cosa significa? Se tu sei gold puoi andare in coda con quelli che magari sono... sei oro, puoi andare in coda con i bronzo come con i diamante. Al massimo! Si parla sempre di al massimo entro 2 gradi dal vostro. Ricordatevi, il sistema comunque tiene conto dei vari elo e cerca di bilanciare, di conseguenza fare i furbetti non ne aiuterà molto. Il vostro grado avviene nascosto se sono passati almeno 14 giorni nella vostra ultima partita competitiva, ma non decade dietro le quinte. Il grado della beta chiusa non viene mantenuto a momento dell'uscita ufficiale, quindi chi farà brutte figure come me, di sicuro, perché io farò cagare, ma se finisco oro è miracolo puro. Ma per il resto, sì, la situazione è questa. I gradi verranno poi resettati. Andiamo a vedere insieme i gradi. Come diceva, 8 leghe, 3 rank ciascuno, tranne Valorant, che c'è un singolo rank lì. Ferro 1-2-3, bronzo 1-2-3, argento 1-2-3, oro 1-2-3, platino 1-2-3, diamante 1-2-3, immortale 1-2-3. Questo è il grado prima di Valorant e il sistema non dice molto, perché, ok, puoi salire di un grado all'altro, ma non dice se ci sono dei punti da guadagnare, se ti dichiara quanto sei vicino o lontano dal passo successivo o meno. Sono stati molto, molto vaghi in merito e questo penso sia fatto apposta per farcelo provare e poi darci dei feedback in merito. Ed è strano, veramente, 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 veramente strano. Come dicevo, vincere le partite è il fattore più importante per salire il grado, ma in caso di prestazioni eccezionali potreste procedere più velocemente. Viceversa, perdere partite e avere prestazioni pessime, in base agli incontri precedenti, ridurrà il vostro grado. Le vostre prestazioni personali all'inizio avranno un impatto maggiore nella valutazione delle vostre avvità rispetto alle vittorie. Questa tendenza andrà progressivamente a invertirsi man mano che riusciremo a collocarvi più precisamente a un grado specifico. Cosa significa? All'inizio tiene conto veramente, 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 veramente tanto di quanto tu bene abbia giocato. Nel momento in cui arriva un punto in cui il sistema dice ok, questo penso che sia all'incirca un gold platino più o meno. Bene, vediamo se riesce a salire e comincia a metterlo più pesante, più valore al vincere le partite piuttosto che alla sua performance personale. Perché dice ora comincia a incontrare gente del suo livello, quindi potrebbe anche morire un po' più del solito, potrebbe anche avere delle partite un po' più sfortunate. Quindi se riesce a vincerla nonostante sia messo in difficoltà vuol dire che si merita l'elo. Se invece perde nonostante sia al suo stesso livello di difficoltà vuol dire che non se lo merita. Arriverà un punto in cui la vittoria o la sconfitta comincerà a valere di più e la tua performance personale si andrà a modificare il valore delle vittorie e delle sconfitte, ma meno di quanto lo faceva in precedenza. Per chi è a grado Valant gli unici fattori che daremo in considerazione saranno le vittorie e la qualità di vittorie sconfitte, perché se avete raggiunto i livelli più alti di gioco competitivo confidiamo che voi e i vostri compagni di squadra vi siate meritati quella posizione. Direi anche più che onesto. Integrità competitiva. Tenere in conto la vostra prestazione totale ci aiuta anche a indirizzare meglio gli smurf per venire il boosting e ottenere molto più velocemente una rappresentazione accurata della vostra abilità, il grado. In questo modo sarete più sicuri di affrontare le partite bilanciate con giocatori che si sono effettivamente guadagnati il loro grado. Questo, ok, fino a qua è da vedere. Piazzare la spike è più divertente con gli amici, perciò vi abbiamo dato la possibilità di mettervi in coda il matchmaking competitivo con un gruppo composto da un massimo di 5 persone. Quindi puoi andare da solo, andare in 2, andare in 3, andare in 4, andare in 5. Entrerete tutti a prescindere da come entrate, se siete 1, 2, 3, 4 o 5 tutti insieme. C'è una singola coda, non ci sono code separate, ma, ma, vogliamo che i giocatori si sentano supportati quando sono in una squadra di 5 persone perché secondo noi è un elemento fondamentale del gioco competitivo. Perfetto. C'è il limite che per giocare nella stessa squadra ogni giocatore dovrà essere dentro 2 gradi da voi. Questo aiuta a garantire che non ci sia una grande differenzialità nelle partite in cui un giocatore è evidentemente molto più forte o deboli rispetto agli altri. Non solo, ci siamo anche accertati che questa è la cosa più importante, l'equilibrio si mantenga a prescindere dalle dimensioni della coda. Quindi se siete 2 persone è probabile che troverete nell'altro team, nel team avversario, altre 2 persone e poi altre 3 o magari 2, 2, 1. Cioè, il senso è questo. Vogliono sempre provare a mandarvi un'esperienza simile contro a quella che state vivendo voi. Per dire, siete in 5 pre-made, vi metterà contro 5 pre-made. Sei da solo, ti metterà contro altra gente da sola. Siete in coppie, in trio, in quartetti. Cercherà di mettervi contro l'equivalente che state proponendo voi. I 4 vanno contro i 4, i 3 contro i 3, i 2 contro i 2, gli 1 contro gli 1. È fatto apposta per bilanciare ovviamente così che potete creare dei gruppi omogenei. Quindi, chiaramente, i 4 con gli 1, i 3 con i 2, eccetera, eccetera, eccetera. E i 5 con i 5, ma è abbastanza scontato. E il senso è che cercherà di bilanciare sempre per mantenere un equilibrio, anche se non è una cosa semplice. Secondo me è questa la parte su cui troveranno più complicazioni in merito. Perché il problema principale di una 5 pre-made contro magari dei gruppi separati da 3, 2, 4, 1 è che 5 pre-made possono parlare garantito al 100%. Si parlano tra di loro, comunicano tra di loro e creano anche delle strategie di livello più alto che gruppi separati più piccoli. Di conseguenza, per quanto il sistema possa provare a bilanciare il tutto, la prima volta che un trio di 3 persone, un trio di 3 persone, sono buppo, e una coppia vanno contro una pre-made di 5, vengono brutalmente arati. Spero che il sistema tenga conto del fatto che i 5 pre-made danno molta più probabilità di vincere contro un gruppo di 3, un gruppo di 2, perché se no non è proprio divertente il match. Teremo conto anche di inattività dei gradi. Se non giocate una partita competitiva da 14 giorni, il vostro account verrà considerato inattivo e il grado nascosto. La community of our hunt farà la prepista di evoluzione della modalità competitiva e del sistema dei gradi, durante la beta chiusa e specialmente dopo l'uscita ufficiale. Al momento stiamo studiando come inserire un elemento di progressione, continuo dei gradi, che riconosca i vostri risultati competitivi per tutti i gradi al di là di quello mostrato nell'incontro. In pratica vogliono darvi un premio per essere arrivati a certi traguardi, a certi numeri all'interno dei ranked. L'idea è quella. Vogliono provare a premiarvi per il fatto che vi state mettendo comunque in gioco all'interno delle competite. Dovrebbe uscire questa settimana, quindi già questo mi mette molto in hype, a meno che non ci siano problemi catastrofici, un'altra pandemia, per favore no. Basta, pandemie. Voglio poter fare un po' di cose libere per il mondo. Mi piacerebbe tornare in giro, ma non ancora. Rimanete a casa per ora. E almeno vanno a sbloccare un pochino la situazione, perché Valorant adesso stava diventando... Allora, il gioco non è che stava diventando noioso, è che cominciavi a vedere il matchmaking andare a funzionare e tu dici, ok, devo fare una faticaccia per vincere una partita e di questo si è sempre contenti perché le belle partite sono quelle combattute. Allo stesso tempo, quando dovevi fare una faticaccia e poi ti trovavi, ok, abbiamo solo vinto, e se fosse stata una ranked mi sarei sentito meglio. Manca quello stimolo in più a chi vuole quello stimolo in più, perché c'è sempre qualcuno che, io incluso, che vuole avere quella carota sul bastone, che per quanto suona sciocco come paragone, funziona molto bene, perché mi porta a giocare per uno scopo, per provare a migliorare, che poi non è per provare a essere competitivo, roba del genere, perché parliamoci chiaro, la gente che gioca competitivo, giocherà competitivo, e questo gioco sarà della roba senza senso a livello di potenza. Allo stesso tempo, però, vuoi avere quella disfazionale, almeno il gold, il plus, se riesce a fare il diamond, proprio, ti va da dio, però vorrebbe un po' di più. Questo è quanto per questo video, vi ricordo, commentate, mettete mi piace, e condividete con i vostri amici, vi ricordo anche sempre, su Twitch potete passare per mettere il vostro Twitch Prime sul mio canale, se volete supportarlo, sempre se possibile, se no portare chiunque vuoi apprezzare. Ma questo è quanto per questo video, e noi ci vediamo al prossimo!